Sabato 21 dicembre, nel pieno dell'atmosfera natalizia, arriva a Viareggio, nella parrocchia di San Giovanni Bosco, la luce della pace di Bethlehem. È un lume che viene acceso direttamente dalla lampada collocata nella grotta della Natività, che arde ininterrottamente dal 1347 sul punto in cui la tradizione indica la nascita di Gesù. La luce di Bethlehem è alimentata a turno dall'olio donato da tutte le nazioni cristiane del globo e rappresenta la presenza del Signore sulla terra. La luce, in arrivo da Bethlehem a Firenze, in occasione di queste festività natalizie, verrà presa dagli scout e portata in Don Bosco la sera stessa. Gli scout da anni è una tradizione che vanno a prendere la luce a Bethlehem e la portano poi in tutta Europa. A Viareggio arriva da Firenze dove i nostri amici scout vanno a prendere a Firenze in treno e sono muniti in un apposito oggetto per trasportare questa luce nel treno perché insomma non si potrebbe tenere una cosa accesa. La portano poi sabato 21 alla chiesa di San Giovanni Bosco dove alle 6 verrà, diciamo così, ricevuta all'interno della chiesa alla messa delle 18. Dopodiché alle 19 di fronte alla chiesa accendiamo un bracere e lì accenderemo la luce di Bethlehem con la luce di Bethlehem.